Senza passione non c'è nulla. La consapevolezza di star producendo con macchine un prodotto importante. Alla prima esperienza che è con Metrios, diciamo che Metrios ha il vantaggio di misurare più pezzi simultaneamente. In questo momento io sto misurando sette pezzi contemporaneamente. Cioè la cosa che a me ha stupito è la semplicità della programmazione e della risposta della Metrios, che è molto più semplice di un profilometro. La misura può essere effettuata da chiunque. Basta appoggiare il pezzo sul vetro della Metrios ed effettuare la misura. I report che vengono generati dall'esecuzione del programma vengono condivisi in primis con gli operatori. Seconda battuta, vengono archiviati durante la produzione del particolare. E automaticamente avrai un prodotto migliore. Perché noi volevamo sfruttare anche la possibilità di controllare il profilo interno dei particolari che produciamo. Comunque ci permettono di velocizzare il lavoro e di eseguire dei controlli che con altri strumenti sarebbero stati sicuramente più macchinosi. Disegni sopra il touchscreen, richiami, comandi sul touchscreen, è veramente innovativo. Anche l'assistenza devo dire che è pronta perché quando chiamiamo sono subito qui in azienda. Abbiamo spinto tantissimo su questo aspetto con l'acquisto anche di queste nuove tecnologie. Comunque sono user friendly, quindi i giovani hanno subito voglia di metterci le mani sopra perché le sentono parte del loro background, nel senso è una cosa facile da usare. Grazie a tutti.